Proprio non le andava a genio l'uomo che la madre frequentava, tanto da arrivare a minacciarla e maltrattarla in maniera pesante. Una situazione molto difficile quella che, secondo una prima ricostruzione, la persona offesa, una donna di 57 anni di grotte, piccolo centro in provincia di Agrigento, ha dovuto affrontare nell'ultimo mese, finché non è più riuscita a sostenerla, decidendo di denunciare tutto ai carabinieri. In base agli elementi raccolti dagli investigatori dell'arma che hanno avviato le procedure del codice rosso per proteggere le vittime di violenza, si sarebbero verificati episodi ripetuti di maltrattamenti, oltre alle minacce. Un quadro indiziario che, costato alla figlia della persona offesa, un'impiegata di 27 anni, la denuncia a piede libero per maltrattamenti e minacce. Ora si attende che la procura di Agrigento chiuda l'indagine e decida se esercitare l'azione penale, portare le carte davanti ai giudici o archiviare.